Amaele Serino all'angolo il laziale Mattia Farnese, il match è iniziato con Zangara che ha subito provato a mettere il suo avversario è uscito molto bene Mattia Farnese, il pugile laziale vediamo anche questi due atleti Mattia Farnese è arrivato qui con 13 match, 7 vittorie un pareggio e sconfitte mentre invece Salvatore Zangara della Cannata Box è qui con assù e assù, terzo match due vittorie fino adesso adesso è una sconfitta e adesso arriva a giocarsi questo titolo italiano deve stare attento, deve girare bene i colpi dice il signor Serino più alto Farnese sta cercando di lavorare con i colpi lunghi però vediamo che Salvatore Zaro ci ripetiamo ha dovuto fare i conti con questi colpi lunghi con un maggiore allungo da parte di Farnese però tanto cuore per Salvatore Zangara Salvatore Zangara l'abbiamo detto della Cannata Box mentre invece Mattia Farnese 14 i suoi match fin qui solo 3 questo è il quarto match per Salvatore Zangara gestisce bene vedete come soprattutto con quel sinistro è quasi sempre pronto a frenare l'attacco volenteroso di Salvatore Zangara ancora Farnese destro-sinistro sull'attacco di Salvatore Zangara che adesso prova un bel gancio poi però vedete come viene fuori fuori il pugile Peter Bese molto sicuro di sé Mattia Farnese si lascia anche andare in altri tipi di sicurezza con le mani molto bassi finisce lo stanno contendendo Zangara all'angolo rosso e Farnese all'angolo blu vedete come Salvatore Zangara veramente a denti stretti lo possiamo dire in modo figurativo va sempre avanti lavora con questi ganci è incurante prende qualche colpo sicuramente prende sempre il primo colpo poi però porta i suoi colpi anche se non sono molto fissi però ovviamente stiamo parlando di un ragazzetto che ha solo quattro match sicuramente questa è un chiaro punto di partenza per poter migliorare affinare meglio le tattiche provare ad accorciare sicuramente con un atteggiamento più maniera tale da non prendere tutti questi colpi di sparramento che Mattia Farnese facendo sicuramente vincere il match fino a questo momento ultimi 20 secondi di questa finale dei 42 kg Zangara ci prova con il relativo punto di penalizzazione sicuramente chiude il match però vedete che gran bel finale per Sardone Zangara che per nulla infestidito da richiamo di